Viene Ruzza tra l'altro, lasciamelo qui così, dico una cosa di Ruzza, faglielo sentire, io Ruzza l'ho conosciuto perché l'ho cercato io per un'operazione che abbiamo fatto, mi sembrava un cretino invece è un ragazzo molto in gamba, sveglio che sa fare il suo mestiere ed è molto simpatico, ha feedback positivo, Ruzza positivo, e le Conti invece non mi ha detto, Ruzza simpaticissimo, Ruzza è veramente un bel tipo e quando lo fai venire ti farà divertire tantissimo. Allora io ho bisogno...